Importante risultato per la Fondazione Monteprama, che ha vinto il bando da 2 milioni e mezzo di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sull'accessibilità ai luoghi della cultura. E' un'altra notizia storica per Cabras, per il sito archeologico di Tarnos e per la Sardegna intera, ha detto il presidente Anthony Muroni. Questo successo premia il modello organizzativo e gestionale di un ente, nato appena 18 mesi fa, dotarsi di collaborazioni di eccellenza e quindi porsi obiettivi molto alti, continua a rivelarsi la strada giusta. Un grazie di cuore a tutto il CDA e responsabili delle aree tecniche e amministrativa, all'Università di Cagliari e alla professoressa Carla Del Vais per il lavoro fatto per la partecipazione a questo bando. La Fondazione Monteprama ha anche firmato due importanti convenzioni per l'avvio di nuove collaborazioni nel segno della promozione territoriale e della fruizione dei beni culturali. I soggetti partner sono il CRS4, il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna e l'Università di Sassari. Anche sul piano dell'accessibilità museale si prevedono progressi, con piattaforme e nuovi strumenti assistivi per le persone sorde, basate sulla interazione con la lingua italiana dei segni e per le persone con disabilità visive, mediante la realizzazione di plastici o modelli dotati di sensori sensibili al tatto e associati ad audioguide interattive. Sul piano della formazione e studio lavoro, la novità investe come primo ente accreditato l'Università degli Studi di Sassari con la convenzione che sancisce l'avvio dei tirocini formativi con gli studenti. Il fine ha concluso Entoni Muroni e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.